Buonasera, bentrovati, nuova edizione del TG Abruzzo. Donna uccisa a Casoli con sette coltellate è stato emesso, ma dato d'arresto nei confronti del compagno. L'uomo è stato fermato in Contea, Leicester. Il servizio è di Rossella Luciani. C'è un'ordinanza di arresto nei confronti dell'inglese Michael Dennis Whitbread, 74 anni, in relazione all'omicidio della compagna, Michelle Fearsdaun, 66 anni, scoperto mercoledì scorso a Casoli in provincia di Chieti. Ad emetterla il procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio, con l'uomo che è stato bloccato nelle ultime ore dalla polizia della Contea di Leicester, che lo tiene ancora in stato di fermo. È accusato di omicidio volontario, aggravato dal rapporto della convivenza e dalla premeditazione. La vittima, come accertato da un primo esame cadaverico esterno effettuato dal medico legale Pietro Falco, è stata colpita con sette coltellate alla schiena. I due vivevano da alcuni anni in contrada Verratti, dove si è consumato il femminicidio. Le indagini, svolte dal norma di Lanciano insieme alla scientifica del provinciale di Chieti, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato, il quale, al momento della scoperta del cadavere, si era già allontanato dal territorio italiano. Il 74enne è andato via dal casolare di Contrada Verratti nelle prime ore di domenica 29 ottobre, a bordo della sua Jeep Compass bianca, e dopo aver oltrepassato la frontiera con la Svizzera, ha raggiunto il territorio inglese. Successivamente verranno messe in atto le procedure per la sua estradizione e il trasferimento in carcere. Ed ora la storia di Maria Elena Di Sabatino, la 46enne originaria di Giulia Nova, prematuralmente scomparsa a causa di una malattia che ha scelto di organizzare la sua festa di compleanno in riva al mare per dare l'ultimo saluto ai suoi amici più cari. Sentiamo. Sapeva che l'era rimasto poco tempo per vivere e così ha voluto organizzare una festa con i suoi amici più cari. Maria Elena Di Sabatino ha festeggiato il suo 46esimo compleanno in riva al mare a Giulia Nova, sua città di origine. La donna si è spenta il primo novembre scorso all'ospice dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove nelle ultime settimane era stata ricoverata. Ora la piangono il padre, la madre, la sorella e i tanti amici che le sono stati accanto anche nei momenti più duri della sua battaglia. Maria Elena da qualche tempo era residente a Parma, dove lavorava in banca. La 46enne aveva chiesto all'amico Paolo Giorgini, assessore comunale e proprietario di un noto locale del litorale Teramano, di organizzare una festa di compleanno speciale. Desiderio esaudito. Maria Elena, insieme agli amici di sempre e ai colleghi di Parma, ha spento le candeline in riva al mare, proprio come desiderava. Con la sua scomparsa, Giulia Nova è in lutto. La 46enne in città era molto conosciuta. Il sindaco Ivan Costantini, sui suoi canali social, scrive Ai genitori, alla sorella, agli amici, a quanti le hanno voluto bene, il sindaco e l'amministrazione esprimono di vero cuore il proprio affetto e la sincera avvicinanza. Restano di Maria Elena i valori umani più belli che una persona, una donna in particolare, possa esprimere. La positività, l'altruismo, l'ironia, la dolcezza, la forza d'animo, che erano propri non passeranno. Il suo ricordo rimarrà e sarà per tutti un indelebile e luminoso esempio di vita. Condoglianze sono state espresse anche da parte del presidente Luigi De Laurentiis e di tutta la società sportiva calcio Bari. Maria Elena era la cugina dell'ex calciatore di Juve e Pescara Federico Giampaolo, tecnico della Primavera Bianco-Rossa. I funerali della 46enne si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Pietro Apostolo, dove tantissime persone hanno preso parte alle esequie per dirle addio. Veniamo al maltempo, continua l'allerta arancione per vento. 120 le richieste di intervento nel Chietino e 50 solo nel Pescarese. Ascoltiamo il servizio per fare il punto della situazione. L'allerta arancione per vento, con raffiche oltre i 100 km orari, ha colpito tutta la regione, ma la situazione più critica si registra in provincia di Chieti, dove sono arrivate ben 120 richieste d'aiuto ai vigili del fuoco. Nel capoluogo il vento ha completamente smantellato il tetto di una casa disabitata, danneggiando un cavo elettrico. Chiusi i parchi, mentre a Celenza sul Trigno un'ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole. Almeno 50, invece, gli interventi eseguiti da Pescara Montesilvano, dall'area Vestina alla Val Pescara. Dappertutto si registrano danni e disagi tra tetti scoperchiati, tendoni e cartelloni di velti. I problemi principali riguardano la caduta di rami alberi che sono finiti sulle strade, in alcuni casi occupando anche l'intera carreggiata, ma anche su abitazioni e linee della corrente elettrica provocando blackout. Numerose le auto colpite, alcune delle quali in transito, ma fortunatamente non si registrano feriti. Nel capoluogo adriatico un grosso platano è crollato in via Lepindaro, nei pressi dell'università. In via Raffello, invece, sono crollati dei calcinacci da un palazzo in ristrutturazione e hanno danneggiato le auto in sosta. Chiusi per precauzione da ieri sera tutti i parchi cittadini. Anche nel comune di Penne questi sono off-limits, come i cimiteri, e il comune ha aperto il Coq. Problemi anche in A14, a causa di alberi caduti sulla carreggiata in direzione Bari, nella notte è stato chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto Sud, riaperto poco prima delle 9.30, con code di 3 km in diminuzione. A causa dell'ondata di maltempo, Trenitalia fa sapere che la circolazione dei treni potrebbe subire variazioni e convogli regionali abruzzesi potrebbero subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate. Restiamo sul maltempo e andiamo a vedere qual è la situazione adesso nel Terramano. Ascoltiamo il servizio di Rossera Luciani. Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco della provincia di Terramo che hanno effettuato circa 25 interventi a causa del forte vento che ha interessato il territorio provinciale. Molti di questi sono stati effettuati per alberi e rami caduti sulle sedi stradali, ma anche per rimuovere elementi pericolanti. Particolarmente è interessato il territorio di Silvi, dove si sono vissute ore di paura per la caduta di vetrate dalla facciata di un hotel di grande altezza. Come mostrano le immagini girate dai Vigili del Fuoco. Anche alcuni tratti di via Roma lungo la statale adriatica sono rimasti bloccati a causa della caduta di diversi alberi. Anche in questo caso non si segnalano persone o veicoli coinvolti. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per rimuovere gli alberi caduti, impiegando autogru e autoscala e utilizzando le motoseghe per sezionare i tronchi in varie parti e ripristinare così la viabilità. I pompieri sono dovuti intervenire anche per spegnere alcuni incendi di sterpaglie che si sono verificati a Varano di Teramo e a Bisenti, dove le fiamme hanno raggiunto un capannone con alcune attrezze agricole andate a fuoco. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficili anche dal forte vento, che ha favorito la propagazione delle fiamme. I comuni in cui si sono verificati maggiori danni causati dal vento sono quelli di Silvi, Pineto e Atri. I Vigili del Fuoco per potenziare il dispositivo di soccorso hanno richiamato in servizio anche il personale libero e si sono avvalsi del supporto di squadre di protezione civile e aziende messe a disposizione dai comuni interessati della provincia di Teramo. Un 36enne di Sulmona è stato condannato a 16 anni di carcere per aver tentato di strangolare la sua ex. La procura aveva chiesto l'assoluzione. Un anno e quattro mesi di reclusione, risarcimento da liquidare in sede civile e pagamento delle spese processuali. E' questa la pena inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, nei confronti di un 36enne residente nella città uvidiana, finito alla sbarra per aver tentato di strangolare la sua ex. I fatti risalgono al novembre 2018. Il giovane, secondo l'accusa, avrebbe aggredito e percosso una ragazza con la quale aveva avuto una relazione. Le violenze subite dalla vittima, secondo i referti medici, le avevano procurato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, oltre a varie fratture e ferite da taglio. Nel corso delle indagini compiute dalla squadra anticrimine del commissariato di Sulmona, era stato accertato che la ragazza fosse stata picchiata perfino nell'androne di un palazzo gentilizio. Il 36enne ha sempre respinto le accuse, sostenendo che quel giorno non avrebbe proprio incontrato la donna. Il giudice però non gli ha creduto, tenuto conto di quanto aveva dichiarato nell'interrogatorio di garanzia e lo ha condannato a 16 mesi di reclusione, accogliendo la tesi della parte civile. Il PM aveva chiesto l'assoluzione. Una sentenza pronunciata dal Tribunale di Sulmona sull'ennesimo caso di violenza sulle donne, un fenomeno che continua ad avanzare nonostante la rete a supporto delle vittime, a partire dalle forze dell'ordine passando per i centri antiviolenza. Ed ora siamo all'Aquila. La Regione ha ospitato il Consiglio regionale di Abruzzesi nel mondo, una grande occasione per tenere salde le radici di chi vive all'estero. Ascoltiamo il servizio. Tenere salde le radici degli abruzzesi all'estero. È l'obiettivo del Consiglio regionale abruzzesi nel mondo che si è riunito ieri all'Aquila per la consueta assemblea annuale. I lavori si sono svolti nella sala consigliare del Palazzo dell'emiciclo. Ad aprire la seduta è stato il Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, che ha sottolineato l'importanza di sostenere le attività del CREA. Chi per lavoro o per altra ragione vive lontano dall'Abruzzo non dimentica le sue radici e può essere ambasciatore dei valori di questa terra forte e gentile, come fu definita dal giornalista e direttore della riforma Primo Levi quando nel 1882 compì il suo viaggio in Abruzzo. Grazie per essere qui. Noi teniamo particolarmente al CRAM per convinzione dell'utilità del lavoro che voi svolgete e dei risultati che otterrete anche oggi e anche per storie personali. Stare a ricordare chi conosce la mia personale storia sa perfettamente quanto io sia legato alle comunità dei nostri connazionali all'estero. Sono certo che i miei colleghi offriranno una massima disponibilità, accoglienza, rispettosa dedizione ai lavori di questa donanza e sono certo che resteranno fatti concreti che potremo poi sviluppare nel corso dei giorni a seguire. Quindi buon lavoro, discutete animatamente perché a noi è un fatto che ci fa piacere quando c'è grande tensione per raggiungere obiettivi. Quindi buon lavoro. I delegati CRAM hanno apprezzato l'accoglienza della regione e si sono detti onorati di poter sedere all'interno della sala in cui vengono discusse e votate le leggi regionali. Il tavolo dell'Assemblea degli Abruzzesi nel mondo è stato coordinato dal direttivo formato dai consiglieri regionali Roberto Sant'Angelo e Sara Marcozzi, mentre Sabrina Bocchino è intervenuta in collegamento video. Tra i componenti anche Antonio Inaurato, rappresentante dell'Osservatorio delle Associazioni. Una giornata importante per rinfrancare il legame tra la regione e gli abruzzesi che vivono all'estero. E ora parliamo di erosione. Siamo a Fossacesia, nel Chietino, dove sono state rafforzate le barriere frangiflutti grazie ai fondi del PNRR. Un intervento da 200 mila euro. Matteo Porfiri. Sono stati finanziati con i fondi concessi dalla regione Abruzzo nell'ambito del PNRR e si sono appena conclusi i lavori per la sistemazione delle scogliere frangiflutti nel tratto di mare della riviera nord di Fossacesia, in provincia di Chieti. L'investimento complessivamente è stato di 200 mila euro. Gli interventi, eseguiti dalla società in mare, hanno riguardato il potenziamento delle barriere artificiali già esistenti per ostacolare l'erosione della spiaggia. Il progetto è stato curato dall'ingegnere Daniela San Lorenzo. Sono lavori che abbiamo richiesto in quanto il maltempo e l'innalzamento del mare hanno provocato una considerevole riduzione del litorale. In quel punto ha tenuto a precisare il sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. I problemi però riguardano tutti i 5 chilometri della spiaggia di Fossacesia, che merita la massima attenzione e azioni di contrasto non più rinviabili. Nel lungomare sud, ad esempio, dove sono tra l'altro presenti alcuni stabilimenti balneari, l'area demaniale si è ridotta di oltre il 70%. Fossacesia è tra le località abruzzesi ad alto rischio per le possibili evoluzioni derivanti dal cambiamento climatico conseguenti ai fenomeni erosivi della costa. E a dirlo è stata l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ovvero l'Enea. Il sindaco ha dunque ammesso di aspettarsi la pianificazione di interventi mirati proprio a preservare l'intera spiaggia. Passiamo allo sport, calcio serie C. Si è interrotta in Sardegna sul campo dell'Olbi alla serie utile del Pineto che durava da quattro partite, vittoria di misura dei padroni di casa grazie al gol di Ragazzu al 36esimo nel recupero dell'ottava giornata del girone B di serie C. La squadra di Amaulo sotto tono rispetto alle ultime uscite senza il portiere titolare Tonti, squalificato e con Mercorelli tra i pali al debutto stagionale dal primo minuto. Per il Pineto prossimo impegno lunedì alle 20.45, questa volta in casa contro la Fermana. Il Pescara invece giocherà domenica alle 14 a Carrara. Ed ora scendiamo in eccellenza. Sono 400 i biglietti destinati ai tifosi del Teramo per la gara di domenica sul campo della Renato Curiangolana. Intanto l'attaccante bianco-rosso Touré si gode il bel momento. Giussi Cingoli. Il primato in classifica e l'ottimo avvio di stagione per il città di Teramo è anche merito del tecnico Marco Pomante, il quale in otto gare di campionato su dieci ha utilizzato gli stessi titolari e con un trio d'attacco super, con 20 gol realizzati su 29 complessivamente. De Gidio autore di otto reti, Dos Santos 7 e Touré 5, quest'ultimo si è dichiarato soddisfatto del suo rendimento finora. Lo ascoltiamo. Posso dire di... sì, spero di farne tanti altri o fare tanti altri assist. Cosa hai pensato quando il mister ti ha fatto partire dalla panchina nelle ultime gare? Cosa hai pensato? Schierando rei? Ma essenzialmente non ho pensato niente. Alla fine la scelta del mister, la rispetto, non do di più. In vista del turno di campionato tra Renato Curiangolana e città di Teramo in programma domenica 5 novembre alle ore 15 presso lo stadio Leonardo Petruzzi di città Sant'Angelo la prevendita dei biglietti è partita in mattinata e i tagliandi potranno essere acquistati fino a sabato alle ore 19 solo però nella sede sociale di Via Delfico. I biglietti a disposizione dei sostenitori biancorossi sono complessivamente 400 al costo di 10 euro intero e 5 ridotto riservato agli over 70 alla fascia d'età tra i 14 e i 18 anni. Il giudice sportivo ha squalificato per domenica per un turno il difensore Leopoldo Pastafiglia della Renato Curiangolana. Tre giovani biancorossi sono stati convocati dal selezionatore Marcello Di Camillo nella rappresentativa regionale in vista del sessantesimo torneo delle regioni Lino Damiani, Daniele De Marcellis e Andrea Di Donato. L'appuntamento è per le 15.30 di mercoledì 8 novembre al campo sportivo Piccinini a Contrada con le Sciarra di Atri. E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie dunque per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con la programmazione della rete.